Il Paradiso delle Signore Sette, l'attrice di Agnese si renderà conto che è innocente. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore Sette si avvia verso le battute finali e al centro del gran finale di questa settima stagione, ci saranno le vicende di Palma. La donna si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno di Agnese Amato, video, che dopo un lungo periodo di assenza dalla città, rimetterà piede a Milano. Tra le due donne non scorreva buon sangue ma, nel finale di questa settima stagione, Agnese cambierà atteggiamento nei confronti della mamma di Francesco. Nel dettaglio, le vicende di Palma continueranno a tenere banco anche nel finale di questa settima stagione del Paradiso delle Signore, complice al ritorno di Agnese Amato. La donna, dopo aver trascorso un lungo periodo a Londra da sua figlia Tina, ricomparirà nel corso delle ultime puntate della settima stagione e, a quel punto, avrà modo di scoprire che Palma e suo figlio Francesco si sono stabiliti proprio a casa sua. Quale sarà la reazione di Palma? Tenendo conto che, in passato, ci sono state un po' di incomprensioni e di attriti con la famiglia di Agnese. La reazione di quest'ultima potrebbe non essere positiva, ma alla fine non sarà così. A svelare un po' di retroscena su quello che succederà nel corso delle puntate conclusive del Paradiso delle Signore 7 è stata l'attrice Valentina Tomada, che veste proprio i panni di Palma. Salvatore è legato a vecchi rancori familiari e all'inizio mette i bastoni tra le ruote a Palma e Francesco. Poi si renderà conto che è innocente, come sostiene anche Agnese, e si metterà tutto alle spalle, ha dichiarato l'attrice di Palma. Insomma, Agnese sarà pronta a lasciarsi alle spalle il passato e quelle vecchie incomprensioni che ci sono state con la donna. In attesa di assistere alle puntate finali di questa settima stagione della S.O.P., fervono già i preparativi per il Paradiso delle Signore 8. L'appuntamento con la S.O.P. opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2023-2024, come sempre in prima visione assoluta sulla rete Ammiraglia. Le riprese cominceranno tra fine maggio e i primi di giugno e, anche quest'anno, terranno impegnato il cast per buona parte della stagione estiva. Tuttavia, per rivedere in onda questo nuovo ciclo di episodi inediti della S.O.P., i fan e spettatori del Paradiso delle Signore dovranno attendere che passi l'estate, la messa in onda. Infatti, è programmata da metà settembre in poi.